Sizio che alla fine vi rendete conto che porca puttana vi siete resi conto due o tre volte che avete buttato palla prima e poi vado io, vai te, cazzo, non è dato nessuno è arrivato l'avversario e ha fatto gol ti sei? Via! Siamo? Tranquilli, non abbiamo né fretta, né tempi da rispettare tranne io che come assolto devo andare a lavorare però, non vi preoccupate Via! Grazie!